Qual era il tuo? Questa è la tua parte, vai. Però non lo devi far vedere il foglio. Devi guardare là e dire quello... ti è piaciuto, ti piace a te la tua scuola? Non solo c'è andata mamma, ma c'è andata anche zia Glo, zia Kate, zio Ale e nella scuola, se tu ci hai fatto caso, ci sono ancora i lavoretti fatti da noi. Bisognerà andarli a riprendere quei disegni là, così almeno ci riteniamo per ricordo. Che dici? Ci andiamo a riprenderli? Le scuole sono tutte rotte e poi adesso le stanno costruendo nuove per non cadersi più. Così il terramoto la tribola.